Massimo Prete, autore della Bruno Editore, del prossimo ebook in uscita d'ottobre, il Personal Trainer. Allora Massimo, una domanda fondamentale, come mai hai deciso di pubblicare con la Bruno Editore un libro che ha dei contenuti molto da manuale, diciamo, molto pratici? Ma diciamo che sicuramente la Bruno Editore è la casa editrice online più conosciuta, nel senso che se scrivi casa editrice per ebook su Google esce sicuramente la Bruno Editore, quindi hai molta visibilità, hai un sito molto visitato e quindi ho pensato che fosse sicuramente la casa editrice migliore e quindi mi è sembrato la migliore soluzione proprio per il mio ebook, anche perché essendo un ebook pratico, scritto come guida, è molto importante che fosse un sito che avesse altri ebook simili, comunque di crescita personale, di crescita anche a livello alimentare, non solo del Personal Trainer come può essere il mio, perché la mia è come fosse una missione per aiutare le persone a migliorarsi, perché non esistono i miracoli neanche in questo campo, non esiste la cosa semplice per dimagrire, bisogna avere le giuste strategie, seguire procedure passo passo per riuscire a ottenere i risultati che si è prefissati. Ok, perfetto. E come pensi comunque di far conoscere il tuo ebook, di promuoverlo anche al di fuori? Ma sicuramente sono in programma dal biglietto di visita localmente come ai giornali, spero di riuscire a fare alcune interviste anche in radio e cercare anche di darmi un nome al di fuori dell'online, del personal training online e quindi di sviluppare quella che è la mia idea di personal training. Ok, grazie Massimo. Ciao.